Ma se noi facciamo un giro con la Vespa, quando la scrocco a mio figlio, e facciamo i lavoretti per pagare le bollette, e ti preparo colazione con il burro di soia, e troviamo le cose per terra, e ci baciamo, e guardiamo accendersi il campanile e ceniamo a un'ora qualsiasi con mozzarella e pomodoro e basilico, ma se noi parliamo di tutte le cose del mondo e ci buttiamo sul letto a un'ora qualsiasi, e facciamo l'amore e andiamo la sera nei posti dove si sente la musica gratis e la poesia, e ci mandiamo gli SMS se appena un giorno restiamo lontani, e ci diciamo gli odori, e ci diciamo gli altri amori, ma se noi la casa è piena di scatoloni e lo yogurt del discount da un euro al chilo, a un'ora qualsiasi facciamo l'amore e ci attormentiamo nudi, e ci stupiamo che sia passato il tempo, ma pazienza, lui passa, noi per mano, noi tu, tu come puoi pensare che ci manchi qualcosa? yoga, tu, un'amica mi ha detto che adesso simpatizzi per il veganismo, e già so che fai yoga e acroyoga, ami la bellezza e la natura, forse stai attenta a non calpestare un insetto, forse hai uno sguardo buono anche per ragni e scorpioni, questo è molto bello, ma vorrei farti notare che quantomeno dal punto di vista scientifico, biologico, sono anch'io al momento un essere vivente, e sono in ansia per te, una parola me la potresti dire, o concedermi almeno lo sguardo buono che forse concedi ai ragni e agli scorpioni, che tutto sommato credo di essere meno velenoso di loro, e più in ansia di loro per te, anzi, guarda, secondo me ai ragni e agli scorpioni di te non gliene fotte un cazzo, sarà anche vero, come dici, che la forma irregolare del tuo viso crea un'ombra intorno ai tuoi occhi, ma quando li allarghi e guardi come si rischiarano, sei fatta come un passero, il torace carenato, i piedi lunghi che quasi potresti appollaiarti sopra un ramo sottile, sei leggera, forse voli, i capelli non sai come girarli, si increstano in conflussi di ruscelli, non stai nemmeno negli andecasillari, sei tutta bella di bellezza tua.